In questa quarta ed ultima parte del corso vediamo il calcolo delle probabilità che si applica ai cosiddetti eventi aleatori, di cui qui vediamo una definizione. Cominciamo a dare la definizione di spazio degli eventi, che è l'insieme di tutti i possibili eventi legati ad un determinato fenomeno. Lo spazio degli eventi può anche avere una dimensione infinita, ma qui non trattiamo questi casi di cosiddetto spazio continuo, bensì limitiamoci al calcolo delle probabilità su spazio degli eventi finito, cioè in cui i possibili risultati siano determinabili a priori e appartengono ad un insieme finito di elementi. In questo modo possiamo già dare la definizione classica di probabilità, cioè se siamo in grado di calcolare i casi possibili, la probabilità di un evento E, di cui conosciamo il numero dei casi favorevoli, non è altro che il rapporto tra i casi favorevoli e i casi possibili. Qui vediamo un esempio. Se lancio un dado, qual è la probabilità che esca un numero, per esempio il 5? Un caso favorevole su 6 possibili. Oppure posso creare un evento più complesso, qual è la probabilità che non escano 3 o 5? Chiaramente abbiamo 4 casi favorevoli su 6, cioè 2 terzi. Come vediamo il valore della probabilità è sempre un numero compreso tra 0 e 1. Vediamo un altro esempio. Lancio di due dadi. Qui per schematizzare lo spazio degli eventi. Conviene utilizzare una tabella con le combinazioni dei possibili valori su ognuno dei due dadi. Così scopriamo che i casi possibili sono 36. Casi favorevoli all'evento enunciato, cioè la somma dei valori dei due dadi uguale a 7, è di 6. Quindi il rapporto è 6 su 36, cioè un sesto. Diciamo che conviene anche qui ripassare un po' di insiemistica, perché esiste una relazione tra la classificazione degli eventi e chiaramente le proprietà dell'insiemistica. E qui vediamo come i casi favori ad un evento sono in realtà un sotto insieme dello spazio degli eventi. E l'insieme complementare, quindi chiamo con E sottolineato, è chiaramente formato da tutti i casi dello spazio degli eventi che non appartengono a te. Dopodiché possiamo tranquillamente assegnare alla probabilità di tutti i casi S, cioè l'evento certo, uguale a 1. La probabilità che un evento non si verifica per nulla è chiaramente 0, questi sono i due estremi del range delle probabilità. E la somma tra la probabilità di un evento e la probabilità del suo complementare è chiaramente la probabilità di S, e quindi abbiamo 1, da cui ricaviamo un'importante relazione, cioè se voglio la probabilità di un evento complementare, conviene sottrarre da 1 la probabilità dell'evento. facciamo un esempio, lancio 3 monete, questi sono gli 8 casi possibili, qual è la probabilità che non escano monete uguali? Dato che è più facile contare il numero degli eventi favorevoli al caso escono monete uguali, che sono solo 2, possiamo calcolare tale probabilità, che è un quarto, due ottavi, e ricavare la probabilità del suo complementare come 1 meno 2 ottavi, cioè il risultato fino a 3 quarti. altro esempio, tratto da test di medicina, e qui in realtà dobbiamo solo utilizzare la tabella del lancio dei due dadi, da cui ricaviamo che gli eventi favorevoli sono 6, quindi la probabilità è di nuovo un sesto. Adesso vediamo alcune regole sul calco delle probabilità che possono essere utili. Iniziamo con il concetto di eventi indipendenti, gli eventi sono indipendenti se il verificarsi dell'uno non condiziona il verificarsi dell'altro, qui abbiamo un paio di esempi, e si può facilmente dimostrare che se abbiamo due eventi indipendenti, la probabilità del verificarsi contemporaneamente di entrambi gli eventi è data semplicemente dal prodotto. Questa regola, che si chiama quindi regola della probabilità composta, e viene applicata ovviamente solo ad eventi indipendenti, è molto utile, perché può permetterci di risolvere il calco delle probabilità inerenti un tantino più complesse di quelle in cui si applica solo la formula classica base. Qui abbiamo un esempio in cui viene applicata la formula, anche come vedete nell'ultima parte, in modo ricorsivo, cioè se gli eventi sono più di due. Ma la regola resta che comunque si fa il prodotto, si applica il prodotto delle singole probabilità. Un'ultima formula utile, perché non è raro trovarla nei test di ambizione, è quella della probabilità di un evento che si ripete n volte. E se voglio calcolare la probabilità che un certo evento si verifichi k volte su n, e in questo caso non sarebbe facile applicare applicare la definizione classica, perché l'insieme delle possibilità rientra nel calcolo combinatorio, quindi bisogna associare il calcolo combinatorio al calcolo delle probabilità, infatti la formula è quella che vediamo qui, in cui il valore della probabilità che l'evento si verifichi però va moltiplicato per le combinazioni di k su n. Vediamo qui un esempio in cui una moneta è lanciata quattro volte, per attenzione qui chiaramente c'è un distrattore perché si parla di quattro volte, ma in realtà sono tre, perché sapere che la prima volta si ottenuta la testa non cambia la probabilità degli altri tre lanci, quindi bisogna applicarla a tre lanci, e quindi la formula è abbastanza semplice e mi dà come risultato tre ottavoli. Qui abbiamo un calcolo diretto della formula della probabilità delle prove ripetute, in questo caso abbiamo un risultato di 15,64. Continuiamo con altri elementi che possono essere utili nel svolgimento di quesiti di logica numerica. Sicuramente conoscere almeno la definizione di progressioni, di successioni o progressioni, e in particolare di progressione aritmetica, qui vediamo che siamo passati ad un altro argomento, appunto quello delle successioni numeriche, e abbiamo queste formule per ricavare un termine ennesimo, la somma dei primi n temi in una progressione aritmetica. Che cos'è una progressione aritmetica? Una progressione o successione si dice aritmetica, se la differenza di due numeri successivi è costante. Tale differenza viene detta anche ragione della progressione. Qui abbiamo anche il concetto di progressione geometrica, in cui invece il rapporto resta costante tra due termini successivi. Vediamo degli esempi. prima successione, è qui facile individuare la progressione aritmetica di ragione 4, quindi facile ricavare il termine successivo. Abbiamo un'altra successione, questa è invece una progressione geometrica. Attenzione a questa, in cui vengono chiesti due valori, e questo ci fa capire che in realtà, come spesso avviene nei quesiti, abbiamo una doppia successione concatenata, infatti sono due successioni, una aritmetica e l'altra geometrica, e quindi i valori sono 9 e 32. Vediamo un esempio, un recente quesito di medicina, e il valore che completa è evidentemente 106, ma qui la regola era che ogni termine si ricava come somma dei due precedenti, quindi la successione, la progressione inizia dal tezzo termine, in cui facciamo già la somma dei primi due e poi conserva questa regola. Ancora un esempio tratto da quesiti degli ultimi anni, questa è una progressione con lettere, letteraria, a cui a volte proviene associare dei valori numerici, la posizione magari nell'alfabeto. In questo caso, ad un'attenta analisi, anche magari sostituendo dei valori numerici, ci accorgiamo che la regola è di seguire la successione dei valori partendo dal centro, così ricaviamo appunto un A, B, C, D e così via fino alla soluzione. Passiamo ai quesiti con l'utilizzo del percentuale, che spesso troviamo nei test di ammissione. Cominciamo a definire che cos'è una variazione percentuale se una certa grandezza varia, assumendo un valore finale V, sia ΔV, V-V0, la sua variazione. La variazione percentuale è il rapporto tra ΔV e V0, che è un valore minore di 1, positivo, eventualmente espresso in percentuale se moltiplicato per 100. Qui vediamo un esempio. Possiamo anche calcolare direttamente il fattore di variazione, praticamente calcolando il valore finale della grandezza G, se ha subito una certa variazione percentuale P per 100. vediamo un primo esempio che può essere risolto sì cercando direttamente la soluzione, ma forse in modo più semplice verificando le varie soluzioni. abbiamo qui un altro esempio e anche qui possiamo, utilizzando la definizione di percentuale, calcolare direttamente il valore finale richiesto. Qualche elemento di statistica, qui diamo innanzitutto la definizione di calcolo statistico e per lo più servono elementi semplici quali calcolo di, intanto di concetto di frequenza e qui vediamo con un solito esempio, e il calcolo di media aritmetica è eventualmente pesata. Qui vediamo le due definizioni. Ancora un esempio con una semplice media da calcolare, utilizzando la definizione di media aritmetica possiamo arrivare alla soluzione. Ancora è utile conoscere la definizione di mediana e moda e avere un'idea di quali siano i metodi grafici di presentazione dei dati statistici e quindi tabelle, curve cartesiane, istogrammi. Qui abbiamo un esempio con una, con la soluzione che è facilmente ricavabile dalla lettura dell'istogramma. Concludiamo con esempi di tipologie che presentano altre conoscenze o altri metodi di ricerca della soluzione. Ad esempio, laddove va impostata una relazione d'ordine tra alcuni elementi. Nel caso dell'esempio bisogna mettere in ordine alcuni fratelli, un certo numero di fratelli. Dagli elementi del testo si ricava un ordine almeno parziale, da tale ordine però si ricava facilmente la soluzione. Un altro quesito molto diffuso è quello del lavoro orario. Qui vediamo, quindi la caratteristica di questi quesiti è che abbiamo un lavoro svolto da un certo numero di persone in ore diverse e si vuole sapere poi, magari come in questo caso, se li facciamo lavorare insieme, quanto tempo impiegano per compiere un determinato lavoro. Abbiamo due metodi che vediamo riprodotti nella diapositiva. Probabilmente conviene utilizzare il secondo, che è quello del calcolo orario, cioè la frazione oraria di quantità di lavoro che ogni operaio, in questo caso marinaio, svolge. Dopodiché la somma del lavoro orario dà il lavoro orario di tutto il gruppo e poi quindi è facile ricavare dal lavoro orario di tutto il gruppo quello che viene chiesto. Abbiamo ancora un esempio di sequenze di figure, qui bisogna ricavare la successione della trasformazione che è sottoposta a una determinata figura. Qui ne vediamo la soluzione. E concludiamo con un quesito in inglese, che è abbastanza semplice da comprendere, dove abbiamo, come possiamo leggere, dobbiamo determinare quale figura è una volta riorganizzata, equivalente a quella assegnata, è qui insomma facile ricavare la soluzione che la dà. di. Grazie.